Allora, buongiorno e benvenuti alla nostra lezione oggi di Geografia, mercoledì 13 maggio 2020. Come vedete dalla scritta sopra la mia testa, oggi ci occupiamo di pianura. Siamo partiti dalle montagne, poi siamo scesi in collina e adesso eccoci in pianura, che è il territorio che conosciamo un po' meglio, dato che noi abitiamo a Roma, che è una città di pianura. Andiamo a vedere quant'è alta Roma. E vedete, io ho cercato Roma altitudine, questa è la cartina di Roma, vedete, circondata da alcuni comuni che conosciamo un po' meglio come Marino, Frascati e altri un po' più lontani da dove siamo noi, che sono Tivoli, Monte Rotondo, Cervetere, Ladispoli, Fregene, Fiumicino, Palestrina. Questi sono i paesi che circondano Roma. L'altitudine di Roma è di 21 metri, che è un'altitudine quasi completamente pianeggiante. Pianeggiante sono tutte quelle parti che non sono, sono più bassi di una collina. vedete qua ci sono altre città, quanto sono alte, Milano 120 metri, che sembrano un po' più alte, ma in realtà è sempre pianura. Parigi 35 metri, è sempre pianura e vedremo per quale motivo. Venezia un metro, perché Venezia è così bassa, tra virgolette, perché Venezia è praticamente proprio sul mare. Cioè mentre Roma si stacca un po' e sale un pochetto rispetto al mare, invece Venezia è proprio, fa parte quasi del mare, sono una serie di isole sul mare. Quando studierete storia, l'anno prossimo in storia, studierete che Roma è una città fondata su sette colli. Sono i colli di Roma, hanno diversi nomi, vediamoli, proviamoli, sette colli di Roma, li cerco perché non me ne ricordo mai tutti, eccoli qua. Aventino, Campidoglio, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinale e Viminale, sono i sette colli di Roma. Cioè Roma è fondata su sette piccole colline. Perché sono piccole? Perché in realtà nessuna di queste supera i 200 metri. Infatti c'è scritto con un'altezza di circa 50 metri, quindi non sono nemmeno colline, sono colli. Cioè qualcosino un po' più basso di una collina. Quindi Roma è una città di pianura. Andiamo a leggere, dice abbastanza poco sul vostro libro, quindi lo leggiamo. Allora, le pianure sono territori piani o con leggeri rilievi. Quindi per esempio i colli di Roma sono dei... non è completamente piana Roma, cioè non è completamente piatta, senza nessuna. Infatti se andiamo in giro per Roma ci sono delle salite e delle discese, però sono leggeri. Qui dice che non superano i 300 metri. In realtà c'è un errore e sono 200 metri. Siccome dopo faremo una scheda in cui anche qui c'è il numero 300, mi è venuto il dubbio. E ho detto non è che veramente sono 300 metri. E quindi sono andato a vedere anche qui su Wikipedia, pianura altitudine non superiore ai 200 metri sul livello del mare. Quindi mi ricordavo bene che le pianure sono da 0 fino a 200 metri. Allora, quindi ripeto, le pianure sono territori piani o con leggeri rilievi che non superano i... Qui cancellate 300 e scrivete 200 metri di altitudine sul livello del mare. Come vedete qui, in questa figura, vediamo che ci sono diversi interventi dell'uomo. C'è la costruzione di città, di campi coltivati, strade, autostrade, ponti, aeroporti, fabbriche, ferrovie, eccetera. Soltanto le parti più lontani, e non a caso in direzione delle montagne, sono lasciate a com'erano naturalmente. Leggiamo. L'intervento dell'uomo ha modificato fortemente il paesaggio della pianura, soprattutto con vasti campi coltivati e con la costruzione delle città. Osserviamo gli elementi della pianura. Qui vediamo appunto una città, autostrada, le autostrade sono quelle strade a lunga velocità, cioè ad alta velocità, dove si può... Siccome non incontrano né passaggi pedonali, né si incrociano con altre strade, sono quelle strade in cui si può andare un po' più veloce, sempre rispettando i limiti. Poi c'è un aeroporto, qui vediamo una risaia. Quando aveva fatto la scheda sulla collina, ci chiedeva quali erano le coltivazioni adatte alla collina. E tra questi c'era... chiedeva se il riso era adatto. Il riso non è adatto alla collina perché necessita proprio di un terreno completamente piatto. Quindi per questo la risaia è insomma tipica delle pianure. Poi abbiamo allevamenti, ferrovie e così via. Vediamo alcune altre cose. Qua vi dice di colorare in verde i termini che indicano elementi naturali all'interno del testo e in rosso quelli che indicano elementi antropici, sia all'interno del testo ma anche all'interno della figura. Vi posso già anticipare che di elementi naturali ce n'è soltanto uno, gli altri sono tutti antropici. E vediamo che altro ci mostra il vostro testo. C'è una fotografia di una pianura, anche qui vediamo un territorio molto modificato degli esseri umani. Vediamo questa autostrada che molto spesso ha questa forma che ricorda, non so se conoscete il quadrifoglio, perché sono praticamente quelli, si chiamano svincoli, sono praticamente, se uno sta camminando, guardate questo camion rosso, sta camminando qui, se si accorge che ha sbagliato strada oppure se deve uscire, può uscire qui, prende questa strada e va magari in città. Oppure, se si accorge che ha sbagliato strada, c'è la cosiddetta inversione di marcia. Cioè, praticamente, esce qui, fa tutta questa strada, esce di nuovo e ritorna da quest'altra parte, perché su quest'autostrada si può andare soltanto in una direzione, non puoi girare dall'altra parte, quindi non può prendere e girarsi da qua. Quindi, se si accorge che ha sbagliato strada, deve uscire e poi rientrare. Allora, vediamo queste parole. Dove c'è la stellina, io ci clicco e mi dice strade. Strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, permettono il trasporto di persone e merci prodotte dall'agricoltura, dall'allenamento e dall'industria. Quindi, sulle strade, vedete, ci circolano automobili, dove camminano persone, ma soprattutto, anzi, soprattutto, anche camion, che invece trasportano delle merci. Campi coltivati. Questi campi non sono dei prati, diciamo così, spontanei, ma sono, vedete, tutti squadrati, quindi vuol dire che c'è il lavoro umano. Il terreno pianeggiante e fertile, grazie alla presenza di molti fiumi, ha fatto sì che in pianura si sviluppasse, fin dai tempi antichi, l'agricoltura. Qui ci dice fabbriche. In pianura, l'uomo ha costruito fabbriche. Quando vediamo questi, si chiamano capannoni, quasi sempre sono, appunto, delle fabbriche. Fabbriche, capannoni e magazzini, che di solito sono posizionati intorno alla città, ovvero in periferia. Perché non stanno proprio dentro la città? L'ho detto poco fa nel video su Scienze. Cioè non possono stare troppo vicino alle città perché molto spesso le fabbriche emettono dei fumi, dei gas di scarico che non possono stare vicino ai centri abitati perché altrimenti, insomma, si respirano gas che sono dannosi per la salute. E infine, città. La pianura è l'ambiente ideale per la nascita e lo sviluppo delle città. Avete visto anche prima Roma, Milano, Parigi, Venezia, sono tutte città che stanno in pianura. È molto più difficile. Ci sono anche città in collina o in montagna, ma di solito le grandi città sono tutte in pianura. Le città si distinguono dai paesi perché hanno un maggior numero di abitanti e di servizi. Di solito il paese si indica un comune con un numero di abitanti piuttosto basso, città è invece un centro abitato con molti abitanti. Non c'è proprio una differenza, non c'è un numero oltre il quale diventa città. Però sappiamo che nessuno potrà mai dire Roma è un paese perché sappiamo che è una città, dato che ha milioni di abitanti, nessuno potrà mai dire che... che ne so... adesso qualche nome di paese non mi viene in mente, però ci sono paesini che hanno mille abitanti, nessuno potrà mai dire che sono delle grandi città. Allora, andiamo a vedere adesso la scheda che dovete completare. Il paesaggio di pianura. Numero 1. Complete le frasi inserendo le parole al posto giusto. Come vi ho già detto, qui c'è 300 che è sbagliato e dovete considerare 200. Le altre parole sono giuste e sono da inserire. Numero 2. Osserva questa foto, rappresento il territorio di pianura. Che cosa noti? Una maggior presenza di elementi naturali o di elementi antropici. Vi ricordate che voleva dire antropici? Antropici vuol dire costruiti dagli esseri umani. Complete la tabella inserendo qui gli elementi naturali e qui gli elementi antropici. Già so che nella scheda non si vedrà benissimo questa fotografia, però cercate di immaginare quali sono gli elementi naturali e gli elementi antropici che si vedono. E con questo è tutto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!